Credo invece che sia necessario fare un ragionamento di ordine politico che è quello che poi ci spinge a mobilitarci. Non prima di aver sottolineato un elemento di cui parlava prima Mariano, che è di carattere sociale e che riguarda l'accesso al diritto alla mobilità. L'idea di avvicendare all'Intercity l'alta velocità significa rischiare di fare fuori le fasce di utenza più bassa. Questo non è un aspetto di carattere secondario, significa che gli strati più popolari non avranno diritto a muoversi, perché troveranno un ostacolo nei limiti di ordine economico a questo diritto. E questo non è accettabile, noi vogliamo invece che rimangano gli Intercity e che gli Intercity siano migliorati, che non siano dei carri bestiali, ma che invece siano dei luoghi utilizzabili e dignitosi. Detto questo, gli aspetti di carattere politico sono questi qua. Perché noi ci mobilitiamo? Perché questa compagine si mette insieme per fare questa cosa qui? Perché non si tratta soltanto di un'avvertenza di carattere sindacale o di rivendicazione di carattere territoriale. Questa è a tutti gli effetti una lotta territoriale, è una lotta di un'intera città, di un'intera regione, forse dell'intero meridione d'Italia. Noi in questi anni siamo abituati all'idea che tutte le volte che lo Stato mette in campo delle azioni, ci mette sostanzialmente le mani in tasca, ci distrugge i servizi, le azioni dello Stato centrale sono prevalentemente azioni di dismissione e tutto ciò prelude e consolida un processo di desertificazione del territorio. Contro questa politica, contro queste politiche del Governo centrale, noi non possiamo che fare affidamento sulla direttazione dei territori e dei suoi abitanti. Non c'è nessun altro che può farlo al posto di noi, è un obbligo se vogliamo difendere i nostri territori. Per questo punto di vista, battersi contro la dismissione delle ferrovie, per la difesa della continuità territoriale e per la difesa delle ferrovie, significa difendere sostanzialmente la Sicilia e la Calabria, questo è il dato politico. Perché non dobbiamo fare noi? Perché la rappresentanza politica è tutta quanta contro di noi. Non è un caso, anzi è un elemento di carattere simbolico, il fatto che il trucco semantico inventato per fregare i siciliani e i calabresi con il meccanismo della continuità territoriale che ha spiegato poco fa Mariano, l'ha ideato un parlamentare autottono, cioè sostanzialmente se noi volessimo dirla in termini populisti potremmo dire che questi qua sono pagati per fregarci, ce li pagano per raccontarci dell'estero. Siccome siamo ben educati, diciamo che loro invece per pagarsi la possibilità di mantenere il loro poltrone fanno di tutto perché possano facilitare l'attuarsi delle politiche statuali, che sono appunto quelle che dicevo prima di dismissione e desertificazione, nei nostri territori, cioè loro agiscono contro di noi. Uno è in questo caso Garofalo, il rappresentante di quella classe politica che agisce contro i territori siciliani e calabresi e contro i suoi abitanti. Questo ci porterà quindi, come diceva Mariano, alla mobilitazione perché l'unico linguaggio che conosciamo è questo, non conosciamo un altro modo per opporci a queste politiche, l'unica cosa che possiamo mettere in campo è la mobilitazione, l'ha fatto il terribotto e non ci tocca un paio di anni fa, lo faremo nuovamente e chiameremo a raccolta tutti gli abitanti della città e della Sicilia per questo. Da questo punto di vista, Antudo, che è un movimento politico siciliano regionale, metterà a disposizione tutte le energie e tutti i propri militanti a disposizione di questa lotta. In ultimo, una cosa che riguarda Messina in particolare, difendere le ferrovie, secondo noi, significa difendere la città da un pensiero unico che ormai da molti anni attraversa questa città. Secondo questo pensiero unico che attraversa il centro-sinistra, il centro-destra, i populisti, a Corinti e tutti, c'è uno schema generale per cui lì c'è il cemento, va spostato dalle colline alle zone, più o meno dove adesso ci sono le ferrovie, e il porto è un pericolo, mentre storicamente i porti erano le ricchezze delle città, adesso il porto è diventato un problema, le ferrovie che storicamente sono l'espressione della modernità, sono diventate degrado, quindi sembra che per ammodernare sia necessario togliere le linee ferrate, perché la linea ferrate diventa un ostacolo alle nuove speculazioni edilizie. Se noi invece pensano l'idea è quella di una logistica basata, che abbia magari come hub, come centro tra i mestieri e la piastra logistica, per cui una logistica pensata per il rapporto nave con Mato, e questo sarebbe il futuro di Messina, che noi riteniamo che sia un futuro negativo. Pensiamo invece che il futuro debba essere rinforzare e salvare il porto, e in particolare il porto storico, salvare la ferrovia, non pensare alle ferrovie come un elemento di degrado, ma come un elemento di modernizzazione, e se la sfida della logistica deve essere assunta, e noi riteniamo che potrebbe essere assunta, questa deve essere pensata come nave più ferrato e non nave più gommato, perché nave più ferrato è più efficiente dal punto di vista economico ed è più sostenibile dal punto di vista ambientale.